SIGLA Lascio dietro di me una scia di distruzione. Andiamo! Pronto all'azione! Questa sarà una bella lotta. Ecco il campione. Le cose belle sono fragili, ma io no. Questo potrebbe essere un buon posto per atterrare. Porto in chiaro, hermana. Basta perdere tempo. Ci lanciamo. È ora che andare! Contatto con Bersaglio. Rifornimenti extra da questa parte. Round 1. Inizio controllo a Vescianello. Siamo già dentro all'Anello. Ah, volevo fare una bella corsa. Più! Veloce! Attenzione! Prima vittima. Prima uccidio! Apriamo le danze! Grazie. Non c'è problema, baby! Contatto. Nemico individuato. È ora di andare. Qui c'è un... Ho stabilito un contatto con il nemico. Lo sottotiro. Ascoltate, sono sottotiro. Non è di quale giorni che c'è il cuore. Non è di quale giorni che c'è il cuore. Non è di quale giorni che c'è il cuore. Non è di quale giorni che c'è il cuore. Non è di quale giorni che c'è il cuore. Fuoco! Regalico. A terra, ho bisogno di aiuto. Uno in meno. Nemico, proprio a chi. Non credo si rialzeranno. Aiuto! Ho ucciso un nemico. A chi? Proprio a chi? Squadra eliminata. È così che si fa. Ti salvi solo perché mi piaci. Più veloce! Carico gli scudi. Mi sto curando. Andiamo da questa parte. Ricarico gli scudi. Più veloce! Più veloce! Più veloce! Grazie. Ho trovato un caricatore energetico esteso qui. Livello 3. Attenzione, anello in movimento. Sembra che siamo nel prossimo anello. E' ora di andare! Andiamo qui, amicos! Che occhio, Silva! Trampolino lancia! Attenzione, capsula assistenza in arrivo. Sembra che ci sia una capsula assistenza in arrivo. Musica le grandi cose. Fuoco! Nemico K.O. Nemico K.O. E' divertente! Potrebbe esserci qualcosa di interessante da questa parte. Pioggia di fuoco in arrivo. Vincola! Vincola! Ho avvistato qualcuno laggiù. Versaglio laggiù! Fuoco! Temici avvistati, laggiù! Ascolta adesso! Si stanno sparando! Ah! Premo il tasto di espulsione! Stop! Laggiù c'è una porta chiusa. Carico gli scudi. Stella arca! Granata frammentazione! Contatto. Fumo nemico. Fuoco! Contatto con il nemico. C'è un'altra squadra. Preparatevi. Nemico K.O. Si stanno sparando! Un ricarico da parte di EJ6. Fuori 3! Bel lavoro, compadres! Ricarico. Stop. Sto. Abro il fuoco. Contatto con bersaglio. NEMICO VICINO Mi hanno situata, mi stanno sparando Sto ricaricando Ho stabilito un contatto con il nemico E' ora di andare NEMICO VICINO Fuori 3 Hai qualcosa di rotto, chica Conosco un fissio che può darti una mano Ricarico gli scudi Contatto C'è qualcuno laggiù Ricarico gli scudi Non essere timido, saluta Fuoco Mi stanno sparando Soprattutto Ehi, problemi neri Mi stanno sparando Mi stanno sparando Lanciato Lanciato Granata Granata Un altro Stanno sparando Non va bene Soprattutto 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 Guardate Mi stanno sparando Ha battuto anche l'ultimo È stato più veloce dei miei attacchi aerei Ricarico Solo un graffio Un secondo Uso un kit finice Un momento Da questa parte Andiamo Devo curarmi Prendo una pausa L'anello è vicino Un minuto alla chiusura Sto dando una ricarica ai miei scudi Controlliamo quella zona Non è troppo lontano Ma dobbiamo sbrigarci ragazzi Più veloce L'anello non è lontano 10 secondi L'anello è lì davanti Più veloce Più veloce Più veloce Più veloce Attenzione Anello Ascolta sto chiamando una capsula assistenza L'anello si sta muovendo Capsula assistenza in arrivo Sembra che ci sia una capsula assistenza in arrivo Qui c'è uno zaino Livello 3 Ehi abbiamo il tuo banner baby Più veloce Più veloce Più veloce Lascio il trampolino Mi stanno sparando La nota Ehi mi stanno sparando Fratelli Caricamento scu... Bombardamento Sto dando un bombardamento Sto curando Mi ha fatto male Più veloce Più veloce Più veloce Uno in meno Carico gli scudi Qui c'è un trampolino Ricarico Ehi Uso un kit fenice Un minuto alla chiusura dell'anello 45 secondi alla chiusura amigos Datevi una mossa Espulsione Seggiolino Eiettabile Più veloce L'anello è dietro l'angolo E abbiamo 30 secondi 10 secondi alla chiusura Attenzione L'anello si sta chiudendo E' incredibile Che io mi sia perduto Ti salvi solo perché mi piace Cazzo l'assistenza Fantastico Ricarico gli scudi E ora fiantare Siamo Prendi E' E' Fianto L'anello si sta Andiamo E' Beato E' 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 Sto guarendo, datemi un secondo Sono a terra Pronti, partenza, via! Dai compadre, alzati Forza, forza, forza Sto posizionando uno scudo termico Non preoccuparti, Belly, ci penso io Mi curo, ci sto mettendo troppo L'anello si chiuderà tra un minuto Sto guarendo, datemi un secondo 45 secondi Ma potremmo camminare qui Oh yeah, c'è qua Abbiamo un problema Ah ah, premo il tasto di espulsione Siamo vicini Attenzione all'aria in chiusura L'anello si sta muovendo Diamoci una mossa È rimasta solo un'altra squadra Allora 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 Round 5 Inizio conto alla rovescia Anello Cosa credete ci sia qui? Trampolino lanciato! Veloce! Un minuto alla chiusura dell'anello Andiamo qui Amico è vicino Possiamo dare un'occhiata qui Ehi amigos Questo tizio non è uno di noi Un minuto alla chiusura Abbiamo i nostri campioni Apex 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 Abbiamo i nostri campioni Apex